Come la valla, Gesù? Chi sono me? Non me la riconoscivo. Gesù, mi sono papi. Papi e Bonifax, prensa romana, ecclesia, perdona, l'andai in ciocca? Se ti smenti che cos'è il papi. Gesù, ma non ti ricordi che ti ti hai detto a Pietro? Come no? Sì, caro. Ti ti hai detto a Pietro, Pietro, ora che abbiamo un'ecclesia, e ti Pietro ti sarai il primo capo di questa ecclesia e ti chiameremo papi. E poi morto ti che sarai un altro papi. E poi morto un papi, un papi, un morto, un papi, una papada? Non ti che l'aveva mai dito ti a Pietro? Se l'ha inventato?